Ciao da Lucia! Oggi su vostra richiesta ho realizzato uno scaldacollo da bimbo. L'altro giorno ne ho pubblicato uno da bimba, oggi volevo farne anche uno da bimbo. Sembra un po' difficile farli da maschietto, in realtà ci sono tanti punti che si prestano benissimo. Io ho usato il punto canestro, vedete, molto molto bello, e ho messo il fiocchettino per chiuderlo con queste carine, queste nappine, per renderlo insomma carino e da bimbo un po' sfiziosetto. In realtà è un punto che si presta molto bene anche per uno scaldacollo maschile adulto, quindi vi faccio vedere, io ne sto facendo uno in questo momento, vedete, è molto molto bello, anche da adulto. La particolarità di questo punto è che è assolutamente reversibile, quindi davanti e dietro è assolutamente identico, e rimane anche molto molto spesso e caldo. Quindi fatto con un filato, io in questo momento questo lo sto facendo con l'uncinetto del 4,5 e un filato o la lana bravo, quindi sintetico, vedete, rimane molto bello. Ovviamente da uomo lo faremo molto molto alto, in modo che si possa, diciamo, o ripiegare, o arrotolare, o mettere sopra un giaccone, quindi comunque lo faremo molto più alto di uno scaldacollo da bimbo che in realtà, se faremo troppo spesso, troppo alto, al bambino darebbe fastidio. Invece da uomo, diciamo che può andar bene anche magari più largo, più lungo, che si attorciglia, che si arrotola, che si piega, perché tanto, vedete, è bello da entrambi i lati. Quindi andiamo subito a vedere come si realizza questo scaldacollo. Allora, per il mio scaldacollo ho bisogno di un multiplo di 8. 8 più una catenella, nel nostro caso, perché lo lavoreremo in tondo, e la catenella, in più, è quella che mi permette di alzare il lavoro ad ogni giro. Quindi 8 più una. Come sempre, non vi do un numero di punti, non vi do un numero di catenelle, perché a seconda della circonferenza della testa del bimbo, quindi lo scaldacollo essendo chiuso, noi abbiamo bisogno di almeno la misura della testa del bimbo, la circonferenza, perché dovrà passare da lì lo scaldacollo. Poi, se sarà largo, non è un problema, perché vedete, tirando il cordino, poi si stringe e comunque si potrà stringere per non farglielo scendere, però ovviamente la misura della testa è necessaria. Quindi terremo come circonferenza per il nostro scaldacollo, appunto, la circonferenza della testa del bimbo al quale vogliamo fare indossare lo scaldacollo stesso. Benissimo. Quindi procediamo in questo modo. Allora, per il nostro campione, io appunto, ho avviato 32 catenelle più una, quindi 33, e vado a chiuderle a cerchio. Ovviamente sono 33 perché io sto facendo solo un campione, quindi non prendete come riferimento le mie catenelle, questo è solo un campione. Quindi facciamo due catenelle che corrisponderanno alla maglia alta per alzarci. Dopodiché, in ogni catenella sottostante, noi andremo a fare una maglia alta. In questo caso vi consiglio di tirarvi già dentro la codina, così avrete un filo in meno da nascondere a fine lavoro. Bene, io procedo con le mie maglie alte, ci vediamo al termine del giro. Allora, giunta alla fine del giro, entriamo nella seconda catenella con una maglia bassissima, in questo modo. Ecco qua. Ora, facciamo sempre per iniziare le nostre due catenelle, che rimarranno sempre qui sopra, e partiamo con quattro punti in costa davanti. Quindi, carichiamo il filo, entriamo tra la maglia, quella che ci ha permesso di alzarci, e la prima maglia effettiva da dietro, e facciamo la nostra prima maglia alta. Di nuovo carichiamo, entriamo tra quella appena lavorata e la prossima, e facciamo la seconda maglia alta. Di nuovo, tra queste due maglie, e facciamo la terza maglia alta. Ed ora, tra questa e questa, usciamo di qua e facciamo la quarta maglia alta. Vedete? Abbiamo fatto la maglia alta a rilievo. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo invertire. Quindi, carichiamo il filo, vi consiglio di tenerlo col dito, e invece di entrare da davanti, come fatto finora, entriamo da dietro. Quindi, entriamo tra la maglia appena lavorata e quella che dobbiamo lavorare, da davanti, allarghiamo un pochino, torniamo sul retro, prendiamo il filo, e se noi stringiamo questo punto, usciamo agevolmente, vedete? e finiamo la maglia alta. Di nuovo, carichiamo, teniamo fermo col dito, passiamo da dietro verso avanti. Se noi giriamo leggermente verso il basso, l'uncino non incastriamo da nessuna parte. Vedete? È molto agibile. Ci sono alcune persone che hanno difficoltà a fare la costa retro, proprio perché si incastra l'uncinetto. Se noi lo abbassiamo, quindi carichiamo, fermiamo il filo con la mano, l'uncinetto lo mettiamo già rivolto verso il basso, vedete? Lo fermiamo così, entriamo, usciamo dall'altro lato, prendiamo il filo e tiriamo, e siamo già, vedete? Sul retro, abbiamo già preso le maglie, e possiamo chiudere tranquillamente. Si deve formare questa costina. Ora, di nuovo, abbiamo fatto 4 maglie in costa retro, andiamo a fare altre 4 maglie di nuovo davanti, quindi in questo modo. Una, due, di nuovo tre, vedete? Sempre tra le maglie, quindi non lavoriamo sopra, ma tra le maglie, e quattro. entriamo qui, usciamo qui, filo, ecco qua. E ne abbiamo fatte 4 di nuovo. Dito, per tenere fermo l'uncinetto, da dietro, quindi così, da dietro, in questo modo, teniamo basso, ecco qua, scusatemi, teniamo basso l'uncino dell'uncinetto, e sfidiamo, in questo modo. E andiamo a chiudere la maglia bassa, di nuovo, vedete? È abbastanza facile, sembra difficile lavorare sul retro, in realtà, vedete? è molto agevole la cosa, quindi, ne ho fatte 3, e andiamo a fare la quarta, ecco qua. Vedete? Una a rilievo, e una con la costina davanti, l'ho fatto col filo bianco, così era più facile farvelo vedere, di nuovo davanti, quindi entriamo tra l'ultima lavorata, e quella che dobbiamo lavorare, quindi così. Se sentite i bambini, purtroppo oggi non hanno voluto dormire, e quindi ogni tanto fanno rumore. Ecco qua, io direi che, ma sì, possiamo anche andare avanti, perché tanto, ho fatto 32 maglie, quindi non ce ne mancano più tantissimo, volevo farvi proprio vedere. Quindi, di nuovo, dietro, una, vedete? Se stringete qua, prendete proprio dove avete, infilato il filo, in questo modo, addirittura, uscite ancora più agevolmente. Io vi faccio vedere i trucchetti, all'inizio servono questi trucchetti, proprio per, dopo ci si prende la mano, ed è una cosa molto naturale, quindi, non si ha più bisogno, proprio dei trucchetti per. Sto rifacendo le quattro davanti, una, due, tre, quattro, vado a rifare le quattro dietro, quindi, una, due, tre, e quattro, sbadiglione. dopodiché, vado direttamente, vedete, l'ultima lavorata, vado ad agganciarmi sulla seconda catenella della maglia che abbiamo usato per alzare, in questo modo, con una maglia bassissima. e abbiamo concluso il giro. Di nuovo, due catenelle, in questo caso, andiamo a lavorare le maglie esattamente come si presentano. Esattamente come si presentano, significa che, carichiamo il filo, e dove ho fatto la maglia, in rilievo davanti, la riprendo, e la rifaccio in rilievo davanti. In questo caso, lo spazio sarà un po' più piccolo, vedete, entrate proprio, state attenti a non prendere la catenella, entrate proprio, se mai spingete col dito, in modo da capire esattamente dove dovete entrare, quindi, tre, e quattro, e di nuovo, vedete, qua c'è la costina a rilievo, quindi è costa retro, entriamo, dietro, e, aspettate che, dico a voi di tenere il filo, e poi io non lo tengo. Quindi, uno, due, tre, e quattro, quindi creiamo la seconda costina. Procediamo così per il resto del giro, quindi, come si presentano? Dove le abbiamo prese da davanti, le prendiamo davanti, dove le abbiamo prese dietro, le prendiamo dietro. Ecco qua, sono arrivata in fondo al giro, rientro di nuovo nella seconda catenella d'inizio, della maglia, per alzarci, e ho chiuso il secondo giro. Ora cosa facciamo? Dobbiamo semplicemente invertire le maglie, quindi facciamo le due maglie, le due catenelle per alzarci, qua vedete che siamo in rilievo davanti, vuol dire che adesso dobbiamo andare a prenderla da dietro, quindi, in questo modo, mi raccomando, non lavorate quella per alzare, quindi, entrate sempre tra quella per alzare, e la prima maglia, quindi, l'abbiamo presa così, allo scorso giro, scusate, così, da davanti, lo scorso giro, adesso entriamo da dietro, quindi, dove l'avevamo lavorata da davanti, andiamo a lavorarla da dietro, in questo modo, così, in questo modo, ecco qua, ho davanti la camera e faccio fatica, vedete, abbiamo creato la costina davanti, abbiamo chiuso il quadratino sotto, qua, dove abbiamo queste due costine, vuol dire che le abbiamo presa da dietro, nel giro precedente, ora la prenderemo da davanti, quindi entriamo tra la prima e la seconda, chiudiamo in questo modo la maglia alta, così, di nuovo 3 e 4 di nuovo stessa cosa, quindi carichiamo, queste erano quelle in rilievo, prese da davanti, ora andiamo a prenderle da dietro, in questo modo, 1 2 3 scusate, ma con la camera davanti, faccio una fatica incredibile a vedere il filo, 4 quindi procediamo così per tutto il resto del giro, al termine del terzo giro, sempre andiamo a unire con una maglia bassissima, nella seconda catenella d'inizio, in questo modo, e alziamo, con due catenelle, cosa facciamo? abbiamo la linea orizzontale, per iniziare, e quindi non dovremo fare altro che, lavorare la costa retro, quindi di nuovo, in questo modo da dietro, quindi, tra le maglie da dietro, andiamo a fare normalmente la nostra costa retro, fatte le quattro maglie, passiamo alla costa davanti, in questo modo, in questo modo, quindi, direi che il procedimento si è capito, non andremo altro che a lavorare il primo giro, come più, possiamo iniziare come vogliamo, quindi, sia con la costa davanti, che con la costa dietro, mentre, il secondo giro sarà come si presentano, quindi, quando troviamo, la maglia che si presenta in questo modo, è costa davanti, quando abbiamo la righettina orizzontale, costa dietro, il, al terzo giro, andiamo ad invertire, quindi, dove avremo lavorato la costa davanti, lavoreremo quella dietro, e viceversa, e, nel quarto giro, la maglia come si presenta, e quindi, continuiamo così, tranquillamente, io, per il mio scaldacollo, ho fatto, un giro di maglia alta, per finire, perché mi serviva per infilare il laccetto, e ho rifinito, con, un semplicissimo giro, di maglia bassa, volevo proprio, una cosa semplice, ho, messo le mie nappine, ma potete mettere anche, dei pom pom, potete, dei pom pom, con le n, potete mettere come volete, mentre, da uomo, io, lo rifinirei, solo a maglia bassa, ma, senza, ulteriori, cose, quindi, non metterei neanche, il laccetto, che ho messo, sul, lo scaldacollo, da bimbo, quindi, da luci, questo è tutto, vi saluto, scusate per il rumore, ma i bimbi, oggi non hanno voluto dormire, e vi avevo promesso, lo scaldacollo, da maschietto, e quindi, ho voluto registrare, lo stesso, anche se, i bimbi, sono qui con me, quindi, da lucia, un grosso bacione, vi invito sempre, a venire a trovarmi, sul mio gruppo facebook, creando con luci franci, al prossimo tutorial, se ne avrete voglia, ciao ciao,